Siamo qui con la sindaca di Borgo San Dalmazzo per la prima edizione della Winter Outdoor Weekend. Allora, cosa ci si aspetta da questa prima edizione? Bene, questa prima edizione ci si aspetta finalmente di mettere in risalto e di valorizzare quelle che sono le bellezze naturali del nostro territorio. Borgo San Dalmazzo e le sue valli sono unite in rete per sviluppare un progetto di valorizzazione e WOW dimostrerà che le nostre terre, le terre alte, le nostre montagne hanno tanto da dire e ci auguriamo che visitatori, che le persone stesse che vivono nel nostro territorio riescano a cogliere tutte queste enormi bellezze e WOW nasce proprio per questo. Ecco, come nasce proprio, da chi è? Come nasce questa idea? Nasce da una felice intuizione di chi sul territorio si occupa dei prodotti sportivi e della valorizzazione proprio della montagna e quindi nasce da Massi Sport, nasce dall'ATL del Cunese, nasce dall'Associazione Ente Fiera Fredda nasce dal Parco Alpi Marittime, dal Parco Fluviale, dal Comune di Borgo San Dalmazzo e da tutte le tre valli e da tutti i territori di Borgo San Dalmazzo. Un gran lavoro di rete ed è questo che fa la differenza per far sviluppare il nostro territorio. Tra poco anche la Fiera Fredda. Tra poco la Fiera Fredda, vi aspettiamo. Il 2 dicembre, inaugurazione della 453esima Fiera Fredda, natura, cultura, gastronomia, tradizione, vi aspettano. Grazie.